Due riciclapoint nuovi qui all'Aquilone Inserisco le mie bottiglie, posso farlo in maniera anche rapida sempre una per volta ma anche senza dover attendere poi molto quindi la macchina schiaccia, riduce il volume i vantaggi economici sono immediati, non è una promessa ma è concreto la macchina indica quanti pezzi sono stati inseriti c'è un monitor touchscreen e ci sono un'indicazione del totale dei pezzi conferiti qui alla COP abbiamo quello che è un'indicazione di una premialità mettendo 20 bottiglie, flaconi o lattine misto con 20 pezzi si hanno 2 euro di sconto su una spesa di 45 euro uno potrebbe però non avere 20 pezzi, allora cosa succede? succede che la macchina dà l'opportunità di avere un contatore personale si passa il codice fiscale con la parte del codice a barre davanti allo scanner quindi c'è scritto avvicinare la testa sanitaria e compila il campo autonomamente e mi dà la schermata, mi dice ho un saldo di punti di 9 allora con la premialità che è qui inserita ho bisogno di 20 pezzi se ho messo anche una bottiglia quindi non perdo mai l'opportunità perché me li ritrovo accumulati per la prossima volta questo è un esempio concreto di quello che è il cambio da quella che è l'economia lineare a quello che è l'economia circolare